A Campobasso, nella scuola di Polizia di Stato Giulio Rivera, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica del 225esimo corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Dal 24 giugno al successivo 5 ottobre 2024, i neoagenti in prova saranno impegnati con la fase di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione dislocati in tutta la penisola. Sport, cultura, legalità sono per la scuola allievi agenti della Polizia di Stato gli ingredienti giusti per la società civile del domani. Per una scuola di polizia è l'epilogo che tutti aspettiamo, ma è soprattutto l'epilogo che aspetta l'intera comunità nazionale. Abbiamo formato 205 allievi agenti, agenti in prova della Polizia di Stato, che andranno a servire le istituzioni democratiche e i cittadini per assicurare la migliore sicurezza possibile. Oggi, 19 giugno, l'intero 225esimo corso allievi agenti della Polizia di Stato giura e si trova in diverse scuole, e anche qui a Campobasso, quindi ascolteremo con attenzione e con il rispetto e la deferenza il nostro capo. È un giorno importante per la loro carriera. Da lunedì inizieranno a lavorare nella Polizia di Stato, nelle sedi che saranno assegnate, e auguro di vivere al meglio questa giornata, che ricorderanno per tutta la loro vita professionale e personale, e soprattutto di andare motivati al servizio del cittadino nel lavoro che li attende. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.